La prima intervista doppia della Biosindex Asora per il nuovo campionato di Superlega, quello targato 2017-2018, ma andiamo a conoscere i nostri atleti di quest'oggi. Nome? Pierpaolo, Marco Cognome? Mauti, Lucarelli Età? 22 20 Luolo Libero, schiacciatore Confermato? Sì, sì Da quanto tempo giochi nella Biosindex Asora? Dall'età di 13 anni Da quando avevo 14 anni Cosa hai imparato lo scorso anno durante la tua prima stagione di Superlega? L'umiltà, che è un campionato difficilissimo, che bisogna allenarsi moltissimo per poter competere Cosa pensi invece di aver dato tu alla squadra? Supporto morale Penso di aver dato un contributo a tutta la squadra, negli allenamenti, facendo un buon gruppo durante l'anno Come ti aspetti questo secondo anno di massima categoria? Sicuramente difficile, però spero anche quest'anno di dare un apporto alla squadra importante Spero di dare un buon contributo a tutta la squadra e di fare sicuramente una buona stagione Momento più bello della stagione passata? Sicuramente il mio primo ingresso contro Trento Sì, il momento più bello è stato comunque condividere tutta l'esperienza con i ragazzi e sicuramente il primo ingresso in campo Compagno a cui sei più legato? Marco Ruffiano Guarda, non saprei, però non è lui, ma il razzo Entrambi avete una donna in famiglia nota per le sue abilità culinarie, chi è? Nonna Vabbè, ovviamente mia nonna La sua specialità? Gli gnocchi La lasagna Beh, fatecelo assaggiare Tra voi due chi è il più forte? Lui Lui è il più forte Il più simpatico? Io, io Lui, lui è il più simpatico Il più bello? Lui Io sono il più bello Il più intelligente? Domanda difficile, eh? Parlo di spari? Dispari, vai Lui E vai Via all'altro, cosa pensi di lui? Che, allora, sei sicuramente un bel ragazzo Simpatico Volenteroso E Unico, soprattutto Sei un grande amico Bravissimo giocatore E ti voglio bene Mamma mia, dopo queste dichiarazioni Passiamo avanti Mintonate il coro dei tifosi Che più vi piace Fino alla fine Forza Sorani Fino alla fine Forza Sorani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti